Ciao ragazze, oggi vi mostro questo nuovo completino è un completino abbinato, questo è un modellino che ha fatto impazzire la mia amica Dalila allora, come potete vedere è un pantalone vita alta, elegante, con il suo corpetto coordinato tutto in questa stampa fantasia floreale che, guardate qua, che bella che è carinissima allora ragazzi, nel dettaglio, il top ha la spallina regolabile elasticizzata e dietro ha una bella culisse infatti il modello del top è taglia unica il pantalone invece è elasticizzato vita alta, bello morbido anche lui tutto made in Italy, questo è un completino che secondo me è perfetto per delle cerimonie se avrete delle cerimonie in questo periodo o per delle serate eleganti e perché no magari abbinato con un blazer tinta unita, giusto per spezzare un po' la fantasia va benissimo anche per un colloquio di lavoro o una cena importante è disponibile anche nella variante nera eccolo qui nella versione nera, come potete vedere è bellissimo anche in questa variante vi mostro meglio la fantasia, nello sfondo nero e rimane identica risaltano un po' di più i colori dei fiori rosa eccolo qua tutto disponibile in store e online seguitemi sulla mia pagina facebook e instagram lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e ci vediamo con il prossimo outfit un bacio e a presto un bacio e a presto